buongiorno oggi andiamo a vedere esattamente il tracciamento delle sessioni live cioè in modalità sincrona con for meeting. Oggi vediamo questo tema. Andiamo subito a vedere come si imposta il tracciamento delle sessioni live in for meeting. Andiamo sempre a condividere il nostro schermo e andiamo insieme sempre nella stanza di un nostro cliente che ringrazio che ho via congress e entrando nella tab corsi andrò a filtrare esclusivamente i corsi in modalità sincrona filtro prendendo un corso in modalità sincrona sincrona si intende la diretta per quello come ben voi sapete possiamo o integrare o utilizzare zoom o qualunque altro sistema di videoconferenza per fare i meeting. Possiamo utilizzare l'applicazione Jitsi che è già inclusa e integrata in for meeting o utilizzare sistemi di streaming live attraverso i nostri server di streaming collegati a software come StreamYard piuttosto che OBS o altri programmi di regia. Detto questo come voi vedete quando l'evento è sincrono compare una nuova icona che si è imposta a tempi di frequenza. Cosa vuol dire? Io ho una diretta. Voglio far sì che solo quelle ore della diretta sia un oggetto di controllo per quanto riguarda eventi agenas o corsi in ambito per esempio accordo stato regione che richiedono un tracciamento solo per quelle ore. È ovvio che io posso far entrare l'utente anche alle otto del mattino e tenerlo online per settantadue ore perché puoi rivedere contenuti ma quelle che fanno fede per il rilascio dell'attestato sono solo le quattro ore di quel giorno. Io in modo tale in questo caso che cosa ho? Ho un tracciamento totale ma un tracciamento minimo che viene fatto in automatico. Nelle sessioni andrò a inserire il mio giorno per quello andrò, io lo voglio fare a Natale 25.01.2000.21 da che ore? Dalle ore 11.00 alle 15.00. Questo diventa la mia sessione live, vado a salvare. In quel momento come bene viene scritto vuol dire che imposto una frequenza minima di gestione dell'attività live. Ecco questa è una funzione aggiuntiva che prima non era compresa in modo tale che andiamo a determinare su formiti due tipologie di tracciamento sia sincrono che sincrono o in contemporanea entrambe le opportunità che si possono organizzare. Maggiore flessibilità che vi viene dato per gestire la vostra attività di frequenza. Tutto qui ovviamente vi saluto già e vi lascio subito operare per quanto riguarda il questo tipo di oggi abbiamo visto per quello che cos'è un tracciamento delle sessioni live. Per chi vuol scoprire un po' di più di che cos'è formiting lo invito a accedere al nostro landing page dove potete contattare direttamente me e fare una demo di formiting. Grazie a voi e per adesso buona giornata da Matteo Parvini e formiting.